L'8 e il 9 giugno prossimi, in 53 comuni del Verbano-Cusio-Ossora, gli elettori saranno chiamati a votare, oltre che per il rinnovo del Parlamento europeo, del Presidente e del Consiglio regionale, anche per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Il comune più importante in cui si voterà è il comune capoluogo di Verbagna, dove abbiamo una certezza, cambierà sicuramente il sindaco, non perché lo decideranno gli elettori, ma perché l'attuale legge non consente, nei comuni superiori ai 15 mila abitanti, un terzo mandato ai sindaci uscenti. Quindi è il caso del sindaco uscente di Verbagna, Silvia Marchionini. Abbiamo pensato che fosse giusto, corretto e opportuno sentire il sindaco Marchionini al termine di questi suoi dieci anni, per fare un po' un bilancio concreto delle cose che ha fatto, delle cose che pensa di aver fatto bene, e vogliamo anche sentire magari un po' il suo parere su quello che è stato il suo atteggiamento in questi dieci anni, se è vero che è stato un sindaco molto decisionista, secondo alcuni anche un pochino arrogante, se invece è stato un sindaco dialogante. Credo che sarà una chiacchierata interessante con Silvia Marchionini. Ci vediamo qui al Sasso nello Stagno, a fra poco.